Botta e risposta a tinte figlinesi dopo le dichiarazioni di ieri del presidente del Calcit Valdarno Mario Bonaccini che si era detto deluso dal passo indietro della nuova amministrazione comunale sulla tematica di riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Serristori in queste ore si è espresso il neo sindaco di Figline incisa Valdarno. Valerio Pienigiani ha infatti affermato come serva garantire un servizio di emergenza urgenza sulle 12 ore in modo stabile non sperimentale e si debba quindi lavorare allo stesso tavolo con Regione ed ASL per valutare le possibilità di concreta soluzione per il Serristori nel prossimo futuro senza però fare vane promesse. Il sindaco che si è detto sorpreso dall'uscita di Mario Bonaccini ha inoltre voluto ribadire sottolineandolo la serietà della propria posizione affermando di voler uscire dalle polemiche politiche riguardanti la sanità che ha definito spesso strumentali.